Ho fatto questa intro perché ho appena sentito le parole di Mirabelli, di Pegin, di Oddo e volevo parlarne con voi. Mirabelli ha insistito molto sulla questione non si accendeva più la luce. A me sembra che la luce si accenda. Il fatto sta che io adesso voglio vedere in queste tre gare, nei playoff, se veramente la luce rimarrà accesa o no. Visto che Torrente è stato cacciato, io ho qualche dubbio e ho visto anche che altre persone hanno dubbi. Però molte, la maggior parte, sono contente che Oddo sia tornato e sono anche molto convinte che possa vincere questo playoff tanto agognato per noi. Io sono un po' restio a pensarla così, però sono il primo che andrà a congratularsi con Oddo e a chiedere scusa per il freno a mano tirato nel caso appunto che arrivi questa promozione in Serie B tramite i playoff. Sono un po' restio perché io sono convinto che qualsiasi allenatore sarebbe arrivato, fosse arrivato al posto di Vincenzo Torrente e in questo esatto momento non avrebbe risolto nulla perché, come hanno detto, nessun allenatore ha la bacchetta magica. Tre partite più una pausa e poi i playoff eventualmente sono quante? Tre, quattro partite? Ora non ricordo, se sono andate e ritorno tutte allora sono sei partite di playoff. Non mi ricordo la formula, sincero, sono sincero, mi ricordo solo che la finale era andata e ritorno. Anche la semifinale perché mi ricordo quella col Catanzaro, in teoria sono sempre andate e ritorno anche dai quarti quindi sono comunque sei partite più tre di campionato, sono nove partite per Oddo per dare questa scossa. Mirabelli ha detto più volte che volevano una scossa, che dopo le partite vinte con Renate ci sono stati sei punti in sei gare non si vedeva più una squadra viva e hanno voluto dare questa scossa, svegliare un po' l'ambiente con questo cambio con un ritorno di un allenatore che abbiamo già avuto, che conosce la piazza, conosce tutti tranne i giocatori che ne ha solo tre che ha già allenato, che erano Donnarumma, Chieguan e Dezzi. Gli altri sono tutti nuovi giocatori per lui, lui ha detto di aver seguito comunque la squadra che rimane attaccato alle squadre quando li allena anche se dopo non è più l'allenatore che quando è magari nelle zone di Milano è molto felice di andare anche a vederle tipo contro la Pro Sesto se non sbaglio e quindi lui è molto legato, ha ricordato anche il collega della redazione Andrea è venuto a mancare perché ha detto siete tutti qui tranne lui c'è lo stesso stadio con la stessa curva da fare, con gli stessi tifosi e lui ha comunque detto che si è riaccesa quella fiammella appena ha letto il nome di Mirabelle al telefono non ci ha pensato un attimo ha avuto un po' di difficoltà in certe domande appunto gli hanno chiesto ma scusa ma tu te ne eri andato via due anni fa con la stessa società praticamente perché sei tornato e lui era un po' la si è un po' incespicato devo dire però non ho nulla contro Oddo assolutamente io non ho nulla mai contro nessun allenatore voglio vedere nel campo cosa farà e niente ragazzi io volevo semplicemente fare un breve video per dare ancora una volta il bentornato a Massimo Oddo che possa fare il suo dovere che possa portarci veramente a quell'obiettivo che tutti nella società vogliono hanno anche detto se la società ha ambizioni eccetera ha confermato ha ribadito Massimiliano Mirabelli che la società Padova ha ambizioni quindi speriamo che sia veramente così e niente io lascio la parola a voi ditemi la vostra nei commenti ancora un bentornato in bocca al lupo a Mister Massimo Oddo sempre forza Padova e ci vediamo per quanto riguarda il Padova dopo la partita contro l'Atalanta perché sapete non potrò vedere la partita sabato quindi magari domenica arriverà il post partita alla prossima ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando